Continua l'intensa e costante azione della Polizia di Stato nella provincia di Frosinone e finalizzata la prevenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. A Cassino, nell'ambito di servizi mirati, la squadra volante del commissariato, con il prezioso ausilio delle unità cinofile antidroga, ha tensionato le zone della città considerate a rischio. Nel corso dei controlli, il fiuto di Iago ha scovato tra Via Torricella e Via Montemaggio asce e cocaina dal peso complessivo di circa 17 grammi, come verificato successivamente presso i laboratori della Polizia Scientifica. Nelle vicinanze anche materiale per il confezionamento con un bilancino di precisione. La caccia al tesoro però non si è arrestata. Iago ha seguito la sua pista e ha condotto i poliziotti nei pressi di un rudere dove sono stati trovati tre panetti di hashish, circa 300 grammi, oltre a 87 grammi di cocaina in materiale per il confezionamento. Gli agenti, valutata la situazione, hanno deciso di lasciare strategicamente il bottino allontanandosi dal luogo ad una distanza tale da non suscitare sospetto, ma a tempo stesso idonea per l'attività di osservazione. L'intuito investigativo si è rivelato vincente. Di lì a poco è arrivato sul posto un giovane uomo che senza indugio si è diretto verso il nascondiglio dove aveva sistemato il malloppo per recuperarlo, ma è stato raggiunto e bloccato dalla polizia. Si tratta di un cassinate di 26 anni per il quale è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio.